Musica Comincia una nuova settimana e tempo variabile anche per questo inizio di settimana. Dunque andiamo a vedere insieme le previsioni meteorologiche per la giornata di lunedì 3 giugno. A Avellino nubi in progressivo aumento con pioggia al pomeriggio, eventi saranno deboli. A D'Ariano cieli molto nuvolosi e coperti con deboli piogge in temporanea intensificazione pomeridiana. A Baiano nubi in progressivo aumento con pioggia al pomeriggio, schiarite in serata. A Lioni cieli coperti con rovesci intermittenti, a Cervinara coperto con pioggia. A Napoli nubi in progressivo aumento con pioggia al pomeriggio, eventi saranno deboli, mare poco mosso. A Salerno nubi in progressivo aumento con pioggia, eventi saranno deboli, mare poco mosso. A Benevento cieli molto nuvolosi con piovaschi pomeridiani, eventi saranno deboli. A Caserta nubi in progressivo aumento con pioggia al pomeriggio, eventi saranno deboli. Le temperature. A Avellino temperatura massima di 19 gradi, 11 gradi la temperatura minima. A Napoli 20 gradi la temperatura massima, 15 gradi la temperatura minima. A Salerno 20 gradi la temperatura massima, 15 gradi la temperatura minima. Mentre a Benevento la temperatura massima potrà raggiungere anche i 23 gradi. Mentre la minima i 12 gradi. A Caserta 23 gradi la temperatura massima, 14 gradi la temperatura minima. Ed è tutto anche per oggi. A Salerno 20 gradi la temperatura massima, 15 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 gradi la temperatura massima, 15